Questo è il ciclo della teronna, vedrete degli animali rimasti incredibili, dei cavalli, vedrete anche dei cari ciocconieri, vedrete dei cavalli, delle cavalli e anche delle cavalli, delle cavalli. Sì, ma cosa ci fa? Una piacca qui nella mia pista. Simontina? Dina? Direttore, 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 dica, 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 direttore, sì, dica. Simontina, le avevo detto di pulire la pista, è passato a me nel mezzo. Guarda che cosa fa? Io ho proprio da fare, scusi eh. Ma cosa ti hai da fare? Io ho da fare, ho delle cose da fare, ho delle responsabilità, oltre a spasare e pulire, ma adesso ho delle responsabilità. Ma lei è pagata per pulire, per pulire il ciclo. Sì, sì, sì. Vabbè, lei mi ha pagato e adesso aspetta, allora, aspetta. Ma dove va? Scusate, la donna di inizia del circo? Aspetta, aspetta. Scusi eh. Adesso, pulisca. No, adesso io però gliela do perché io ho bisogno di fare una cosa, lei mi ha pagato e io fanno una cosa bellissima. Aspetta, aspetta. Cioè, io sono direttore del circo e mi tocca anche fare la pulizione. Sì, 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 direttore, perché guardi, 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 guardi. Ma no, io non guardo. Guardi, 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 guardi. Guardi, 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 guardi. Qui qua, hai visto? Ma cosa sta facendo? Adesso io sono impegnata qui. Ma cos'è questo? Questo è un cane, mi hanno veduto un cane bellissimo. Ma cosa sta dicendo? È sicuradissimo proprio. Non l'ha visto mai nessuno, eh? Ma qualcuno non l'ha visto mai nessuno? No, adesso, adesso, guarda, guarda. Non c'è il tisane. Ma guarda, guarda. Ma via buona lì. E se fosse proprio veramente un cane? Sì, sì. Che cosa sa fare? Ah, se vuoi fare il capriolo, eh? Guardi, guardi, eh. Pronto? Pronto? Uno. Pronto? 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 Si continua, mi sta prendendo in giro, mi venga questa sonda di animali che non conosco lontano. Perché no? Certo, ma che cosa sa fare, credo? Sa fare anche un'altra cosa. Cioè? Sa amusare il formaggio. Trova da appertutto, chilometro di distanza il formaggio. Ma, ma... Formaggio, formaggio, formaggio. Ma si fida, fida, ma non è possibile. Provi, provi, guarda, mi si fida di me. Provi, provi. Da che mondo è morto? Provi. Esistono i cani da tartufo, ma non da formaggio, me lo dimostri. bravo, chiami formaggio e l'oggi verrà sicuro pronto Pluto? Pluto, formaggio! è partito, è partito è partito, è partito, è partito ma dove sta andando? è partito, è partito adesso lo spettacolo inizia questo è un unico che non ci voleva è partito, è partito, è partito ecco, bravo Pluto, bravo bravo, bravo, bravo che bello, è visto? va Pluto il cane non c'è il formaggio ha visto? io gliel'avevo detto direttore, eh sì vuole fare un'altra prova? ma provi a cercare il formaggio tra la gente pronti formaggio ma cosa sta facendo? no ma quello non è formaggio sì però, beh, più o meno ma, scusi, si può che si montina? sì, sì si rilevata immediatamente il formaggio va sempre a cercare il suo cane saluto 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 Ma la mamma l'ha chiamato e lui se le ha dato Oglia, oglia, corattore a voler Oglia, oglia, ascoltandoti a miratore Samba, pechiani, bagatari, camparato io non so Samba, pechiani, bagatari, incusi del mondo Samba, pechiani, campi, con un gitto possibile Quello del cremente, mi pagate oggi Ha passato mai per la vita Guarda fuori quelli muri, mori, mori, senta paura Con uno scatto felino, sei già in fondo, tu hai già finito Viva, viva, corri verso l'uscita Viva, viva, la prigione è finita Ancora Viva, viva, corri verso l'uscita Viva, viva, la prigione è finita Viva, viva, la prigione è finita Viva, viva, la prigione è finita 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 Così sicura E' un'arte di portatura Saltava in qua, saltava in là E' la felice, come un pasciato Salva in là E' un solno bellissimo Quanto sono bella Senza volerlo Stava a cantare Viva, la prigione è finita Grazie per la visione!